Salve a tutti, ci troviamo a Singapore, oggi vi racconterò come inizia una nostra giornata di lavoro, intanto qualcuno fa colazione, andiamo prima a fare l'entrata nel cantiere, entrare nel cantiere, non è così come in Italia, bisogna fare il check in, let's go check in, let's go, ok? Quindi adesso vi farò vedere come si fa il check in here. Ok, questo sono io, mi devo avvicinare, è riconosciuto, non posso entrare. Questo è il mio amico, i miei amici, questi sono i miei amici. Ah, tu anche i miei amici, ok, tu è il mio boss, tu è il mio boss, no, no, non sono il suo capo. No, no, tu è il mio boss, è ok, è ok, è ok, è ok, grazie a te, grazie a te. Quindi è bello sentirsi superstar qui, ma non è proprio così perché i superstar stanno a casa, oppure fanno i soldi diversamente, i miei soldi sono sudati, ok?